Arriva sotto i riflettori in modalità Monday Night del Dugata Osta la seconda vittoria consecutiva e senza reti subite della meridiana Etna Soccer. Dopo la prova superata col Catania 80 dell'esordio, sette reti alla Ragazzini Red per prolungare il punteggio pieno in vetta della classifica dopo due giornate e iniziare a pensare a una trasferta fuori porta in programma al Bucalo di Santa Teresa Riva domenica alle 9.30 contro la Sport Project Academy che ha tre punti in classifica. 6 come anticipato, quelli ottenuti invece dagli under 14 di Nico Calì che in campo è andato con una piccola variazione di modulo rispetto alla prima uscita senza Mirabella e con la soluzione tre trequartisti tra cui Provenzano e l'inserimento dall'inizio di Strano nel centrocampo a due tra i pali, timoniere dall'inizio. Barbera al lavoro con appoggio per Rizzo che va da Agnese Ferlito, tiro parato a terra da Gerrizzo è un'azione come questa da calcio piazzato di Spampinato che finisce di poco alto che anticipa il vantaggio che cade dopo dieci minuti circa gangi alla rimessa per Strano e da questi a Rizzo, poi a Provenzano, quindi a Davide Spampinato che tenta di entrare esce corto la Ragazzini, il palone finisce dalle parti di Federico Spampinato che inseritosi dalle retrovie saetta verso il palo interno realizzando l'1-0 gran bel gollo, questo da oltre 20 metri che sblocca il match primo gollo in stagione per il difensore in maglia bianca e padroni di casa che raddoppiano alla quarto d'ora Davide Spampinato a limite insiste e allarga su Kevin Provenzano un tiro teso da fuori a centrare il bersaglio e stavolta il centro boa della meridiana Etna Soccer che fa 2-0 realizzando anche lui il primo gol personale quest'anno al ventesimo il fiocco rosa alla partita già caratterizzata dalla presenza dell'arbitro Dalila D'Alessandro di Catania Davide Spampinato la fa filtrare per Agnese Ferlito che si inserisce tra le linee avversarie difensive e segna il 3-0 anche lei Ferlito al primo gol dell'annata entra nello speciale tabellino delle marcature della squadra come i compagni di qui sopra e come Gangi, Signorelli 3, Mirabella 4, Barbera e Rizzo che avevano segnato nel turno precedente alla seminara col Catania 80 al venticinquesimo proprio Signorelli si procura una punizione qualche metro fuori dall'area di rigore batte Luca Barbera conclusione con il piatto ed eccolo qui gol del 4-0 e secondo centro personale del centrocampista maglia numero 16 dell'Etna Soccer finale di tempo con cross di Gangi arriva in corsa Ferlito, palo pieno ripresa subito con due cambi da parte di Nico Calì fuori Provenzano e Ferlito dentro Finocchiaro e Sicurella Rizzo poi la gioca da destra pallone respinto dagli ospiti ma che finisce sui piedi di Sicurella Spond per Signorelli che in diagonale dopo qualche metro palla al piede fa 5-0 Alessandro Signorelli entra nel tabellino ufficiale della partita portandosi a quota 4 a titolo personale altro doppio cambio successivamente Nico Calì al posto di Timoniera in porta e Ciappazza per Gangi quando corre metà ripresa poi entra Liotta per Barbera intanto Ciappazza la rimessa a metà campo palla Signorelli e da questi è Sicurella pallone che giunge dalle parti di Davide Spampinato e in due tempi anzi tre con annessa respinta del portiere della Ragazzini va ancora in gol per quello che è il 6-0 e la doppietta odierna del biondo attaccante in maglia bianca Infine titoli di coda ormai in scorrimento partenza dal basso con Calì che va da Fede Spampinato poi strano verticalizza e accelera dalle parti di Davide Spampinato che anche qui caparbiamente va a conquistarsi l'ultimo gol di giornata e la soddisfazione di una doppietta Un po' di minuti anche per Michele Spampinato che qui si propone come assistman da destra niente di fatto su questo sviluppo dell'azione finisce 7-0 per la meridiana Etna Soccer tra gli applausi del Ducat d'Aosta Abbiamo giocato bene e dobbiamo migliorare negli errori che facciamo e speriamo che continuiamo ancora così per tutto il campionato Mi aspetto di un gran campionato non dobbiamo vedere gli avversari usciamo a testa alta Ho giocato bene, si può sempre migliorare e soprattutto negli errori che abbiamo fatti in campo e speriamo di continuare così per tutto il campionato L'anno scorso eravamo sotto età ma siamo comunque riusciti a vincere il campionato e quindi essendo i favoriti puntiamo alla vittoria Quest'anno puntate al bus Sì A tutti i tifosi e ai genitori A chi dedichi questa vittoria? A tutti i tifosi e ai genitori che ci guardano fuori dal campo A tutti i tifosi e ai genitori che ci guardano fuori dal campo